Siamo in compagnia dei nuovi preparatori dei portieri della Sampdoria, Michele De Bernardin e Raffaele Clemente, una rivoluzione nello staff tecnico che vede ovviamente anche portieri importanti da allenare. Intanto come siete arrivati, come è arrivato alla Sampdoria, qual è stato il suo percorso? Intanto è un grande piacere essere arrivato alla Sampdoria, ringrazio mister Giampaolo per l'opportunità e comunque il club. Dopo tantissimi anni di C e B, un'esperienza due anni fa in Serie A al Parma e comunque gli ultimi quattro anni al Parma, sono finalmente arrivato a giocarmi un'opportunità importante, comunque è il quindicesimo anno da professionista e speriamo di essere utile alla causa. Raffaele Clemente? Io mi accodo ai ringraziamenti di Michele e lo ringrazio anche in maniera personale perché è stato lui a contattarmi e a chiedermi di seguirlo qui in questa importante avventura. Io vengo dal Pordenone Calcio, ho fatto un anno di sito giovanile e due anni di prima squadra in Serie B e adesso mi si sono spalancate questa porta e questa opportunità è importantissima. Parlare di porta mi sembra quanto mai pertinente in questo caso con i preparatori dei portieri della Samp, il ruolo è cambiato negli anni, il ruolo del portiere si è evoluto, è cambiata anche la preparazione? Sì, una novità è che siamo in due collaboratori, uno destro e uno sinistro per ricreare il più possibile quello che poi i portieri potrebbero ritrovare in gara. Il ruolo è cambiato, è molto, le richieste sono sempre di più e il portiere deve essere bravo ad adattarsi nel minor tempo possibile, e a partire sicuramente dal parare che è la priorità, però poi al discorso delle letture, al discorso dei piedi, al capire, conoscere il gioco e interpretarlo in maniera evoluta. Nei primi giorni su che cosa ci si basa soprattutto? Beh, innanzitutto stiamo cercando di conoscere i ragazzi che è la cosa principale perché prima riusciamo a entrare in sintonia con loro e prima si riesce poi a costruire un certo tipo di feeling e di lavoro assieme, quindi la prima parte è conoscitiva, poi ovviamente c'è tutta la parte di campo che verrà cammin facendo. Entrare in sintonia, diciamo così, in empatia con i portieri. Audero, parliamo di lui, riduce da una stagione strepitosa, è stato un po' il salvatore della patria, della Sampdoria, quindi questo ha cresciuto probabilmente la sua autostima, la sua condizione psicologica che è un fattore importante nel portiere, forse ancora di più che nei giocatori di movimento. Ma guarda, assolutamente, non a caso la mia tesi all'università è stata proprio improntata sulla psicologia del portiere perché credo sia la base insieme all'atteggiamento per emergere, per diventare un portiere voluto e di alto livello. Emil in questo momento è in grande fiducia, è un portiere che comunque ha delle caratteristiche importanti e credo e spero possa fare una stagione di alto livello, è nei suoi sogni e quindi cercheremo insieme, creando l'empatia giusta, di lavorarci per arrivare a questo. Sul piano tecnico in che cosa può ancora migliorare? Tecnicamente è un buon portiere, un buon portiere assolutamente. Sicuramente, come dico spesso io, magari a volte potrebbe essere anche più grezzo, ma avere quell'energia in più che possa renderlo un portiere che già è partecipativo, però ancora di più. Mi ha parlato con lei di quella parata, del rigore sotto la nord? Certo, certo, certo. È una delle prime cose che mi ha detto perché gli ha dato veramente un'importanza, un'autostima veramente importante. E poi c'è Vladimiro Falcone, che quando l'anno scorso è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, era riduce da un grande campionato a Cosenza. Quali sono le sue doti e anche lui in che cosa può crescere e migliorare? Beh, sicuramente Vladimiro è un ottimo profilo, un ottimo atleta, è un portiere completo, come diceva Michele, forse lui è un po' più grezzo, però ha quella dose magari di energia un po' più accentuata rispetto a Emil. Sicuramente dove può migliorare è magari l'aspetto tecnico di pulizia di qualche gesto, però insomma è un profilo di alto livello anche Vladimiro. Questo allora per quanto riguarda Falcone, non dimentichiamo Ravaglia, che tra l'altro anche mi dicono è un grande uomo spogliatoio, oltre che è un portiere ovviamente a disposizione della Rosa e della squadra. Sì certo, io ho avuto anche il piacere poi di allenarlo a Vicenza, ormai 8-9 anni fa in C, e lo conobbi con grandi doti umane, è rimasto quello, è migliorato, è maturato, è veramente un uomo leader, sia per il gruppo portieri, perché trascina, ma anche per lo spogliatoio. Poi è comunque uno che si intruffola dappertutto, è veramente un uomo vero, vero assolutamente. E poi c'è il quarto portiere, un giovane aggregato dopo la partenza di Saio, come sta andando anche lui? Lì ovviamente è un ragazzo del 2004 con delle qualità, deve lavorare molto come tutti i ragazzi giovani, però ci è messo completamente a disposizione, quindi lo aspetta un percorso e una stagione di lavoro, ma può ritagliarsi delle ottime soddisfazioni. Un'ultima cosa, nei prossimi giorni di preparazione cosa dovremo aspettarci, su che cosa lavorerete, soprattutto secondo i vostri metodi, qual è l'iter, il programma di lavoro? Cercheremo di avvicinarci soprattutto ai principi del mister, per cercare di lavorare, per portare poi i portieri a lavorare sulla linea, con la linea difensiva, quindi l'essere il più possibile in zona palla, lavorare molto sulle letture, sulle traiettorie, oltre che sulla porta, però soprattutto queste cose qua, lavorare comunque con i piedi, per avere dei portieri fluidi tecnicamente, soprattutto queste, dai diciamo. Vi chiedo l'ultima cosa, al netto ovviamente dei portieri della Sampdoria, secondo voi, visto che siete due esperti, chi è in questo momento il miglior portiere italiano è quello del mondo, se avete un'idea precisa. Vabbè, italiano sembra scontato dire Donnarumma, però la scorsa stagione secondo me Vicario è stato portiere che ha fatto decisamente meglio, però Donnarumma per me resta insomma un top anche a livello internazionale. Mi aggrego, Vicario ha fatto veramente un campionato strepitoso, io arrivo dal Parma, dalla B, e ho trovato in carne secca un portiere che sarà il futuro, parlando spesso anche con Buffon, mi diceva Miki è un portiere che avrà un avvenire veramente importante, e non so se al mondo, ma My Niam ha dato delle sensazioni di energia importantissime, poi penso che Courtois abbia dimostrato di essere ad oggi uno dei più forti al mondo. Grazie e buon lavoro ovviamente a tutti e due. A voi grazie mille. Grazie mille, grazie.